Sono state installate proprio in questi giorni delle nuove rotatorie in città, prima nell'incrocio tra Via Messina e Via Le Trieste e poi nei due incroci presenti in zona Badia, proprio davanti alla chiesa di Santa Croce. Si tratta di strutture sempre mobili che hanno sostituito la segnaletica precedentemente utilizzata. Si prevede però l'inserimento di queste rotatorie anche in altri punti della città. Abbiamo di recente acquistato, e quindi sono state fornite in questi giorni, dei dispositivi che consentono di disciplinare meglio alcune aree di intersezione. Già l'Abbadia era una soluzione di traffico esistente, però realizzata prevalentemente con segnaletica orizzontale e il palo verticale posizionato al centro dell'intersezione. Abbiamo inserito questo dispositivo, che sono delle piccole rotatorie realizzate con materiale plastico duro, sormondabile all'occorrenza, che dal nostro punto di vista agevola la svolta in prossimità di alcune intersezioni molto utilizzate, specie quelle dell'Abbadia, ce ne sono due vicino, una con l'ingrocio con la via Red Italia e l'altra con l'ingrocio con la via Medaglie d'Oro, lì che sono state inserite. Qualche giorno fa ne avevamo inserite un'altra nell'intersezione tra la via Messina e via Le Trieste. Condiamo nei prossimi giorni anche di completare questo quadro di interventi con l'installazione di una piccola rotatoria di questo tipo, che poi serve prevalentemente a dare all'automobilista il punto di riferimento dove effettuare la svolta, perché molte volte si rischia poi di invadere l'aria destinata ai veicoli che provengono dalla corrente di traffico contraria. Questa nuova rotatoria che pensiamo di inserire nell'ingrocio di via Redentore con la via Messina, anche questa è un'area di intersezione dove in passato abbiamo pure registrato degli incidenti, riteniamo che questo dispositivo possa migliorare le condizioni di sicurezza di svolta in queste aree. Queste sono già state realizzate, nei prossimi giorni realizzeremo questa e abbiamo in programma anche altri interventi, anche nell'intersezione tra la via Amari e la via De Cosmi prevediamo di inserire questo dispositivo. Abbiamo verificato che le dimensioni ci sono e serve anche noi a sperimentare se effettivamente migliorano le condizioni di sicurezza e se magari è necessario la realizzazione di un intervento infrastrutturale definitivo o comunque più permanente rispetto a queste che comunque rimangono sempre dei dispositivi mobili che possono essere facilmente rimossi perché sono tassellati e sormontabili. Prosegue inoltre il monitoraggio delle arterie cittadine per attuare dove è necessario alcuni provvedimenti che possano migliorare la viabilità e renderla più sicura ricordando il rispetto dei limiti di velocità. Sì, noi monitoriamo spesso queste cose accade, facciamo un'analisi degli incidenti stradali dove che noi rileviamo e a seguito di questo non solo ci limitiamo a rilevare gli incidenti a definire l'eventuale inosservanza di norme da parte dei conducenti ma traiamo anche elementi di valutazione in ordine a possibili miglioramenti nei cosiddetti punti neri della città. In questo quadro di interventi, per esempio, nelle prossime settimane installeremo dei dissuasori di velocità in alcune arterie stradali su via Due Fontane, su via Luigi Monodo, su via Regina Margherita, su via Rochester installeremo dei pannelli che rilevano la velocità degli automobilisti e la segnalano su un display proprio per sensibilizzare il conducente a tenere una condotta di guida adeguata ai limiti di velocità di quella strada.